ciao più o meno in diretta taylor ma devo dire barbara un'accoglienza pazzesca ciao siete contente ragazze barbara ascolta vedi faccio sette otto torte al giorno così taylor ingrassa e non è più pericolosa per queste qua un po' fidanzate ma per chi mangia la torta taylor francesca l'ha presa benissimo barbara perché sembra ironica la cosa io sono contenta non ho alcun problema io con le donne perché poi sembra davvero dai assisteremo a questa storia d'amore pazzesca fra taylor e gennaro vai grazie a tutti grazie a tutti